Pace, bene, pensiamo alla pace, pensiamo a quello che ho visto, ho incontrato preti, infermieri, mamme, nonni delle mamme e degli infermieri. Io mi auguro che anche altri politici incontrino mamme, nonni, preti, predicano la pace, quindi vadano in Polonia a portare la pace, come ho fatto io. Posso far vedere anche gli sponsor che ora, Aupi, Compar e Freni a Disco Trengo. Sta piangendo? Sto provando, ci si può commuovere, hai idea di cosa vuol dire un bambino con lo zainetto? Ci stavo riuscendo a arrivare in Polonia a confine con l'Ucraina e prendere una vagonata di merda da un sindaco che mi ha sputtanato in tutto l'universo.